Musica e gastronomia per valorizzare la Val Boreca. È tutto pronto per il 4 Festival, il rock dalle quattro regioni, in programma a Pei di Zerba per i prossimi 3 e 4 agosto. 12 gruppi provenienti da Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia. 24 ore di divertimento, cibo e bevande locali e osservazioni astronomiche. Una bella novità che va ad ampliare l'offerta musicale della provincia. In pedana saliranno i gruppi rock Arbos, Beppe Malizzi e Ritagli Acustici, Day After Rules, Fattore Rurale, La Quadiglia, Maladissa, Palinurus e Lefas, Quarantena, Renzo e Tafferugli, Santa Maddalena, Stasi e uno sfiziosissimo progetto. Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.quattrofestival.it. È il primo anno, quindi novità rispetto ad altri festival possiamo dire. Vedremo 12 gruppi, saremo in un luogo imperdibile che è la Val Boreca e l'altra particolarità è che ci sarà cibo locale, sarà preparato dall'Osteria Scienza e ci saranno gli astrofili di Astro Brallo che con i loro telescopi ci guideranno in mezzo al cielo e ci faremo dei momenti di buio tra un gruppo e l'altro durante la notte in cui potremo celebrare il cielo. La Val Boreca è un posto molto buio, quindi si vedono molte stelle molto bene.